Siamo con il tecnico del Brindisi, Massimiliano Olivieri, al termine della gara vinta dai Biancazzurri sul Sansevero a tempo scaduto. Gol di Pignataro, mistero un Brindisi che mette a dura prova le coronari di tutti. A differenza della partita con Mesagne, non siamo andati sotto, non abbiamo preso gol, questo è positivo. Però la partita credo che l'abbiamo sempre condotta noi, al primo tempo loro non hanno avuto solo qualche ripartenza, niente di che. Noi abbiamo avuto tre occasioni nitida gol, quella di quarta diciamo proprio nitida. Il primo tempo non ci ha aiutato anche il vento perché era fastidioso e il terreno di gioco ovviamente è una consuetudine. Invece al secondo tempo abbiamo cercato di ragionare un po' di più, ho chiesto ai miei ragazzi di far girare un po' più di palla. Però loro si erano rintanati nella loro metà campo ed era difficilissimo veramente perché Sansevero è venuto qui per cercare di strappare almeno un punto e ci stava quasi riuscendo. Se non per la zampata di Pignataro e quindi faccio veramente un applauso a tutti i ragazzi per il cuore, per quello che ci hanno messo. Ha dovuto rinunciare a Pignataro oggi che era infortunato, era previsto comunque il suo ingresso a quel minuto oppure ha dovuto forzare un po'? No, l'abbiamo fatto riscaldare, volevamo vedere se teneva un po' perché volevo sfruttare almeno nei primi 45 minuti, però nel riscaldamento non andava bene. Allora ho preferito portarmelo in panchina e sfruttarlo gli ultimi 10 minuti, era da copione diciamo. Quindi gli ultimi 10 minuti è entrato e ha avuto due occasioni, una l'ha parata Leuci e l'altra invece ha fatto... Ha cambiato la partita oggettivamente? Sì, perché ha dato più peso, anche più preoccupazione alla difesa avversaria perché Pignataro è il capogandone del campionato. Anche se noi diciamo le occasioni comunque le avevamo avute, però Pignataro in questo momento ha un peso specifico impressionante. Non a caso c'ha 19 gol e quindi le difese comunque hanno un po' di apprezzione quando lui entra. È stato bravo, ha sofferto a stretti denti e quindi bravo a lui e bravo a tutta la squadra. Grazie a tutti.